Martedì 6 ottobre, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino, occhio ai giornali per uscire di casa informati e saperne e avere una marcia in più rispetto a chi invece non sa nulla. E allora cominciamo dal Santo, intanto oggi se volete fargli auguri a qualche amico o amica che si chiama Bruno o Bruna, oggi è San Bruno di Colonia, ma è anche San Renato Vescovo volendo. L'alba alle 7 e un quarto, il tramonto alle 18 e 46, allora il tempo subito con il bollettino. Bollettino che per la giornata di oggi prevede un cielo poco nuvoloso in mattinata con qualche addensamento invece nel pomeriggio, ma tutto sommato non dovrebbe piovere, la temperature minime saranno in diminuzione, per domani invece mercoledì 7 ottobre vedete il cielo cambia e ci saranno piogge anche a carattere di rovescio soprattutto nel settore interno della regione, per quanto riguarda la giornata di giovedì il tempo torna di nuovo soleggiato, qualche nuvola soltanto sul pesarese, tempo stabile anche per le giornate di venerdì e sabato. Vediamo i giornali, l'apertura del resto del Carlino di Pesaro, con a centro pagina la foto notizia del centro storico che chiude bottega, saracinesche giù, commercio sempre più in affanno. Il titolo di cronaca, tesoretto a casa, furto da 25 mila euro, è successo a Gabicce Mare dove i ladri sono entrati in un'abitazione di un gioiegliere, il gioiegliere Muccini, fuggono con il pieno di oro. E poi sangue alla festa, ha trovato l'accoltellatore, è un diciottenne di Rimini, quindi partono le denunce, mentre c'è stato un rarissimo avvistamento, l'altra notte nella strada che da Piobbico porta a Durbania un arcobaleno lunare, l'arcobaleno viene di notte, ve l'abbiamo fatto vedere anche ieri sera nel nostro telegiornale con la foto di un nostro telespettatore. Obbligo mascherine all'aperto, ma in tanti non si adeguano, sono le nuove regole anti-Covid e poi a Gimarra di Fano, variante battaglia legale, i cittadini vanno al TAR. Lo sport di taglio basso, Viss Adorni resta, Fano invece presi Nepi e Isacco, la VL Delfino, lesione muscolare, Venezia a rischio, diagnosi non grave per il capitano Delfino, ma è difficile che rientri per domenica. Vediamo adesso invece i titoli della prima pagina del Corriere Adriatico, Bricciotti, parliamo della casa di riposo di Monbaroccio, è fumata nera, ambulatorio e punto prelievi, i tecnici bocciano la riapertura, servono indagini su tutta la struttura, si valuta l'ipotesi di mettere a disposizione del servizio sanitario alcuni spazi all'interno del municipio. Centropagina, vaccini in farmacia, nemmeno l'ombra, allarme del Presidente dell'Ordine. Poi l'intervista che vedremo tra poco al virologo Menzo, che dice le cautele faranno la differenza. La razzia dei ladri, spariscono ori per migliaia di euro, poi sempre da Pesaro, ragazzo accoltellato, denunciato un diciottenne per lesioni personali, Urbino, fermato per droga, viene scoperto con i dollari falsi. Concorso di idee aperto per il nuovo Raffaello, demolizione e ricostruzione del plesso scolastico, tre proposte saranno premiate dalla provincia, lo sport qui in piccolo, il fanno prende Isacco e Nepi dalla fermana e cede Diop. Allora, la questione del coronavirus, virus positivo, un test su 20, l'onda adesso investe il sud delle Marche, ieri 22 nuovi casi su 449 tamponi, la provincia di Ascoli ha una media di 13,4 al giorno, Ancone e Pesaro sono a 3,9. A fermo ha contagiato anche il sindaco Calcinaro, i ricoveri salgono da 30 a 34, ma in terapia intensiva ne restano 6. Le modalità di contagio in questa ondata autunnale dell'epidemia, lo ricordiamo, riguardano soprattutto i contatti in ambito familiare. Non ci sono zone più immuni, le cautele fanno la differenza, il Covid-19 è come quello di marzo, lo dice e lo sostiene il professor Stefano Menzo, che viene intervistato dal Corriere Adriatico questa mattina. Menzo è il direttore del laboratorio di virologia di Ancona e dice il virus non è cambiato, ma i contagi ora sono 30-40 volte meno della fase 1. Ho deciso, invece parla il dirigente di una scuola a Senigallia, ho deciso nel mio liceo mascherine pure in classe stretta del preside Sordoni, a Senigallia gli studenti del Medi da ieri indossano le protezioni durante le lezioni, la regola vale anche per i docenti, possono tirarla giù quando spiegano a distanza. Il preside Sordoni, lo vedete qua sotto, lo conosciamo anche qui in provincia di Piesa Urbino, il dirigente dice che sono previste sanzioni che vanno da 400 euro in su. Intanto le marche hanno riattivato il piano pandemico, soprattutto per quello che riguarda le scorte di mascherine. Tre mesi, ci sono mascherine per tre mesi, il governatore Acquaroli dice sono sufficienti, ieri la videoconferenza con il Comitato Operativo Nazionale dobbiamo scongiurare il rischio di un altro lockdown, di un'altra chiusura totale. Intanto domani il ministro Speranza illustra il nuovo DPCM, il premier Conte assicura nessuna chiusura anticipata dei locali pubblici. Intanto all'aeroporto di Ancona, Sanzio, pronta l'emergenza aeroportuale. Mascherina obbligatoria dal Carlino, ma non troppo fuori dalle scuole, la mettono in pochi tour in città dopo l'ordinanza di Acquaroli, molti ancora non si adeguano, soprattutto tra i più giovani. Anzi, il barista dice io faccio fatica a farla mettere anche all'interno del locale, figuriamoci fuori. Calzaturieri, siamo al braccio di ferro, gli sgravi fiscali al sud e noi traslochiamo il distretto marchigiano fuori dalle agevolazioni del governo. Fenni dice l'area di crisi complessa è inutile. Vaccini in farmacia, non abbiamo visto nemmeno una dose. Il Presidente dell'Ordine ho fatto il giro dei fornitori, ma non c'è nulla sui tempi di consegna. Centinaia di telefonate al giorno degli utenti, si rischia di ripetere la storia di gel e mascherine. Non sarà coprifuoco, però le restrizioni sono la mossa errata. Ristoratori e baristi chiedono un ripensamento generale della politica delle limitazioni, anche se la storia del coprifuoco non sarebbe nell'intento del governo. Ristoranti e bar fanno la conta con l'ipotesi di dover affrontare altre restrizioni. Ci adatteremo, basta darci, dicono i baristi, i ristoratori, basta darci delle misure chiare e negoziarle prima con il nostro settore, dice il fanese Flavio Cerrioni del ristorante La Lanterna. Ma quello che temiamo è che l'onda di paura che si sta impadronendo di nuovo del Paese provochi un ulteriore rallentamento della vita sociale. Poi in realtà ieri, come vi abbiamo detto nel nostro telegiornale, ieri sera quasi in chiusura era arrivata la notizia che non è intenzione del governo in questo momento perlomeno pensare a chiusure anticipate dei locali o comunque a restrizioni ancora più rigide all'interno dei locali. Anche perché più che all'interno dei locali verrebbe da dire il problema è fuori dai locali quando ci sono quei sembramenti poco controllati, questi ragazzi, questi giovani che continuano un po' a far finta è orecchio da mercante, come si dice. Intanto nel centro storico di Pesaro serrande giù il commercio chiude bottega, resistere qui in centro è roba da eroi. In via Branca, simbolo del declino con 15 locali vuoti, in via Zongo si sono resi in 5, segni di tenuta invece in corso 11 settembre. Il pizzaiolo storico dice Luigi Roberti io non mollo ma gli affitti mettono KO. Tutta colpa dei franchising. In ogni angolo ci sono cartelli con la scritta FIT, sì, su tantissime vetrine, il cuore della città di Pesaro perde pezzi. Questo è il titolo, cioè questa è la notizia che troverete sul Corriere sul resto del Carlino. Mentre sul Corriere torniamo ai drive test a Villa Fastigi, salvo il centro operativo, non sarà necessario dunque smantellarlo. Ora tocca all'Asur trovare il personale. Quindi c'è una riorganizzazione, un adeguamento dell'area esterna che ospita la palazzina del centro operativo comunale. Lavorano per questo fianco a fianco i sanitari del distretto, i tecnici dei servizi dei lavori pubblici, ma non sarà necessario per garantire il punto drive, l'utilizzo degli spazi del centro operativo, così anticipato l'assessore Belloni. L'apertura del checkpoint rapido entra nel merito l'assessore, dovrebbe essere prevista a partire dal 15 ottobre. Intanto andiamo a Monbaroccio, dove è stata chiusa la casa di riposo Bricciotti. Lì dentro, come abbiamo sentito anche dal sindaco, ieri nel nostro telegiornale c'erano anche un ambulatorio e un punto prelievi del sangue che ovviamente sono stati chiusi. I tecnici bocciano la loro riapertura. Ieri il sopralluogo che è servito ancora di più per capire come sta la struttura. Servono indagini su tutta la struttura e non solo sull'ala del primo piano. Si valuta l'ipotesi di mettere a disposizione del servizio sanitario alcuni spazi del municipio di Monbaroccio, dove eventualmente appunto riaprire questo ambulatorio, dove opera un medico e i punti prelievi per fare appunto gli esami del sangue. Non si tratta di un complesso con problemi tali da essere demolita, ma richiede comunque un intervento in sicurezza. Questa situazione di emergenza è aggravata dall'impossibilità per i residenti di effettuare le vaccinazioni, per esempio anti-influenza. Andiamo a Senigallio invece, dove c'è stato lo storico Ribaltone. Il centrodestra conquista anche la città, che prima era governata da Maurizio Mangialardi, candidato alla Regione. Storico Ribaltone titola il resto del cammino, il centrodestra prende la città. Dopo 22 anni espugna la guida del Comune con 450 voti di scarto e porta sullo scranno il primo cittadino Massimo Olivetti. Lo vedete in questa fotografia, che vince il ballottaggio con il 51,08% dei voti, andando a tradurli, sono 10.213 contro 9.780, quindi circa 450 voti di scarto. Intanto il Carlino pubblica anche i volti del nuovo Consiglio Comunale. Un terzo sono donne, 16 consiglieri di maggioranza e 9 all'opposizione. Possibili cambi con la migrazione ovviamente in giunta. Il dopo Mangialardi titola il Corriere, gira a destra, così Olivetti si prende Senigallia. Testa a testa nel lungo scrutinio delle sezioni sono Marzocca e Cesano a certificare il Ribaltone. Il sindaco uscente dice ti aspetto per consegnarti la fascia, il messaggio di Volpini, lo sfidante che augura buon lavoro al neosindaco, che già è stato sindaco in un paese, credo, ostra, se non ricordo male. Mentre sull'altra pagina del Corriere Adriatico, la vittoria, che sorpresa, anche lui non se l'aspettava, ma i cittadini erano stanchi, ormai era ora di cambiare. Lo ha detto anche al nostro telegiornale, ieri proprio il neosindaco Olivetti, che aggiunge il vero successo sarà rendere i senigalliesi partecipi delle decisioni. Abbiamo scritto una pagina importante e che adesso dobbiamo far diventare storiche. Ha già individuata la Giunta, sono tre le donne scelte. Intanto, visto che a questo punto in casa del Partito Democratico, a livello marchigiano, la questione si comincia a fare un po' preoccupante, anche con lo stesso segretario regionale, Gostole, aveva detto, ne parliamo dopo il balottaggio a Senigallia, forse sperando che lì le cose sarebbero andate meglio che in Regione. In realtà è stata esattamente una fotocopia di quello che è successo su tutta la Regione. Dunque il centrodestra ha vinto anche Senigallia. Dunque si parla di commissariamento o una costituente. Bivio PD, dopo la debacle di Senigallia, domani la segreteria regionale che si presenterà di missionaria. Si dovrà decidere come arrivare al Congresso. C'è chi chiede di ripartire da zero mettendo alla guida del partito un esponente nazionale. Il leader Gostoli punta invece ad aprire una fase di profonda analisi per capire gli errori. Ma c'è poco da capire. Voglio dire, è stato detto sin da subito quando i politici non ascoltano più i propri elettori. È chiaro che c'è poco da discutere, c'è poco da capire. Quella è l'unica ragione per cui hanno perso. Il ragazzo ha coltellato la festa nel Capanno. La polizia identifica un diciottenne del riminese. A suo carico al momento una denuncia per lesioni personali gravi. Il ferito se la caverà comunque. Con ventigioni scattano però le denunce. Anche il Carlino titola coltellate alla festa l'aggressore. Un diciottenne rintracciato a Rimini dalla mobile di Pesolo. Il giovane che l'altra notte ha aggredito un ventunenne moldavo in un prato nella zona del poligono. Il ragazzo in fuga in Romagna è stato denunciato per lesioni gravi. Seconda prova scritta invece per l'ufficio tributi di Aspes. Bocciato uno dei cinque rimasti. Razzia notturna dei ladri in una abitazione invece rubano gioielli e oro per migliaia di euro. Siamo sul Corriere. I carabinieri intervengono anche scusate, rinvengono anche uno scooter oggetto di furto. Sanzionato un operaio per ubriachezza. ha multato un negozio di alimentari per le scarse condizioni igieniche. Marihuana in una bottiglia. Insomma, è un articolo dove ci sono vari episodi di cronaca. Il turismo boccheggia. Ci vogliono agevolazioni. Varotti di Commercio chiede di alleggerire il peso delle bollette dell'acqua e della tassa dei rifiuti. Sui rifiuti è un bonus. Occupazione. Ladri in casa dopo cena. rubano oro per 25 mila euro. Siamo a Gabice Mare. L'irruzione dal figlio del noto gioielliere Muccini di Gabice sfruttando l'assenza dei proprietari. La rifurtiva era nei cassetti della camera. I malviventi, forse due, sono passati dal retro dell'abitazione dopo aver forzato una finestra. Questa invece è la fotografia che arriva da Montecicardo. Giura il presidente Bonazzoli. la cerimonia dopo la fusione con Pesaro. La pagina di Fano del Corriere Adriatico. Terme di Carignano da rilanciare. Le potrebbe rilevare il Comune. L'ipotesi del vice sindaco Fanesi nel caso in cui l'asta giudiziaria del prossimo 14 dicembre andasse deserta. La gestione in seguito sarebbe affidata poi ad una società. Il pressing del Comitato Cittadino. ZTL, sempre a Fano, Confcommercio, progetti, non enunciazioni. La reazione al proposito di chiusura di via Cavour per l'emergenza climatica. Sempre dalle pagine di Fano, questa volta il resto del Carlino, variante Gimarra. Cittadini ricorrono al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale. Il Comitato si appella alla giustizia amministrativa per bloccare il progetto dell'arteria da 20 milioni di euro. Ragioni ambientali e non solo. Confidiamo che, dato l'esito del voto, Comune e Regione ritirino le delibere. Sotto siamo alla Darsena Borghese. Presto luce sedute. Intanto spunta un bando. Crisi nera per gli edicolanti. Il titolo del Corriere, sempre dalla seconda pagina, questa volta di Fano. Il Comune ci venga incontro. Mattioli, che è titolare dell'esercizio, un'edicola che si trova in via Roma a Fano, descrive le difficoltà della categoria sull'occupazione di suolo pubblico. Nessun aiuto, a differenza degli altri esercenti. Mentre per l'ex scuola Carducci ci sono i fondi, un coro di consensi, il preside Giombi soddisfatto anche per la fibra ottica. Paolini dice no al progetto INAIL. Al Bastione Sangallo, invece organizzati i 70 eventi, programma allestito con l'aiuto di 20 volontari. Il record abbattuto di due secondi, parliamo del record di Marc Antonini, Marc Antonini che vola nei 400 metri, l'atleta paralimpico fanese abbassa ancora il suo primato mondiale, titolo italiano a squadre. Anche Carnevale Città dei Bambini nella delega per la cultura, il pedagogista e carrista Pacassoni sul rimpasto della giunta seri. Progetto da mezzo milioni per la pista di atletica, dal bando sport e periferie, ma per la tribuna inagibile ora non ci sono fondi. Questa è la foto del degrado alla pista di atletica di Fano. Ex Carducci, dal Carlino, sindaco e preside in pressing, i soldi per demolire e ricostruire l'edificio ci sono, ma i tempi appaiono lunghi. Paolini della provincia dice non abbiamo la bacchetta magica, secondo l'ente di Via Gramsci, quindi la provincia, per l'estate del 2021 potrebbero iniziare i lavori. Parliamo invece dell'anniversario di Avis, 70 anni e non basta ancora. L'Avis festeggia i suoi donatori, grande festa domenica alla Rocca Malatestena di Fano, presente anche il primario del trasfusionale Pazzaglia. Il presidente di Avis Savelli ha sottolineato lo spirito di solidarietà e cittadinanza attivi. Accoglie al Metavolo, Capriolo investito in strada, passanti chiamano il veterinario, ma lui si rifiuta di soccorrerlo e quello che è accaduto, secondo alcuni testimoni, che dicono che quel veterinario si è rifiutato di venire anche se in quel momento l'ambulatorio era vuoto e non stava facendo praticamente niente. Sono comportamenti che danneggiano gravemente la categoria dei veterinari perché la fanno apparire insensibile e distaccata di fronte a ciò che dovrebbe essere la loro missione, ovvero curare e salvare gli animali. Droga e dollari falsi. Siamo a Fermignano. Sono stati trovati in casa di un uomo che è stato denunciato. I carabinieri hanno incastrato un 24enne di Fermignano. Tutto è partito da un controllo, rinvenuti anche documenti di identità rubati. Il dubbio degli inquirenti è sull'uso dei documenti e sui soldi. Tartufo e birra, la festa di Apecchio ha dato il via libera alla stagione 2020. La manifestazione è servita a mantenere la fiducia tra la gente e i produttori in un periodo difficilissimo. e poi si parla di come è andato il mese di settembre. Alla fine di settembre siamo arrivati a quota meno 276 mm. Stiamo parlando ovviamente di pioggia, di acqua, scusate, non l'ho detto prima. Defici di idrico alto. Si spera in una pioggia leggera e graduale. Qualcosa arriverà, come abbiamo visto, nella giornata di domani. Speriamo sia sufficiente. intanto da Senigallia, sempre dal Carlino, furti alle anziane, arrestato una banda. I carabinieri hanno fermato quattro rumeni senza fissa dimora che avevano, questa banda aveva sfilato poco prima il borsello ad una donna fuori dalla chiesa. Hanno un'età compresa, tra i 20 e i 44 anni, restano in carcere. Il giudice è tra gli alluvionati, dunque cambia il collegio del processo. Siamo sempre a Senigallia, dove spaccio di cocaina e hashish è stato bloccato un pusher di 60 anni. A Monteciccardo insediati Presidente Consiglio, titolo del Corriere Adriatico. Adesso l'accelerazione per il piano delle opere. Poi Artigiani, sbloccata la Cassa Integrazione di aprile. Secondo i sindacati presto arriverà la trancia di maggio, ma per il mese di giugno il fondo non basterà. Vallefoglia, oltre l'Everesting Super Tiberi fa 10.000, la bici sollevata, simbolo della mia sfida. Scalata record ad auditore a pochi mesi da un incidente. Da ragazzino pesavo 138 kg, se vuoi puoi. Guardate adesso che figurino, Enrico Tiberi con la bici sollevata al traguardo. E questo è l'articolo che potrete leggere sul Corriere Adriatico. Poi, Vandi, trono per due, la mostra di Apecchio, tartufo e birra, binomio vincente, anche questa volta. Nicolucci guarda al 2022, il sindaco Nicolucci con Elisabetta ed Eleonora Vandi qui sul palco. a Urbino droga, dollari falsi e documenti taroccati, bottino di un giovane proveniente dall'est, dal controllo alla perquisizione domiciliare, il fiuto dei carabinieri va a segno, ora serviranno comunque degli approfondimenti. Istituto Raffaello, bando per il concorso di idee, sempre da Urbino, pubblicato sul portale Appalti della provincia, tre premi da 5.000, 3.000 e 2.000 euro. Il Carlino da Roma ad Urbino si trasferisce la 2RC, l'importante stamperia d'arte contemporanea, quella dei più noti autori del mondo, lascia la capitale per trasferirsi nella città ducale. Sotto provincia, via libera al progetto del Raffaello, pubblicato il bando pubblico per il concorso di idee, il vincitore procederà poi col piano della nuova scuola. Il primo classificato andranno 5.000 euro. Dalla Valcesano, giro d'Italia in bici elettrica, una tappa a parte da Marotta, l'appuntamento il 14 ottobre, stesso giorno del passaggio della Corsa Rosa. Il sindaco sottolinea la potenzialità di mobilità sostenibile, sport e promozione turistica. Interceptor 40 vince al Conero nella sua categoria, quinto posto assoluto per la barca dell'armatore marottese Luca Mosca. Lavoriamo alle criticità cittadine, invece da Sant'Angelo in Vado si è insediata la nuova giunta che è al lavoro, la lista del sindaco, del nuovo sindaco Parri fuori dai seggi appena eletti nelle scorse settimane, la mostra del tartufo è già organizzata, dice il sindaco. Dunque non ci sono particolari problemi se non quelli chiaramente di mantenere, o meglio, di garantire l'ordine e il distanziamento. Tartufai multati invece dalle guardie ecologiche, si apre la stagione della cerca al tartufo e arrivano anche le prime sanzioni verso i tartufai, domenica 27 settembre, primo giorno della stagione del tartufo bianco pregiato, è toccato a due cercatori sorpresi in attività dalle guardie ecologiche, prima dell'orario consentito, situazione che gli è costata una sanzione di 1000 euro complessivi. All'apertura per la seconda dei tartufi del 27 scorso hanno partecipato anche le guardie del raggruppamento GEV-PU, un'associazione di vigilanza ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e sono entrati in servizio alle 4 della mattina. Due guardie ecologiche che si sono portate in una zona del comune di Peglio, frequentemente battuta da diversi tartufai e quindi a un certo punto insomma hanno trovato alcune persone che avevano iniziato un po' presto rispetto all'orario previsto. Guardate questa fotografia, ieri vi abbiamo fatto vedere nel nostro telegiornale uno scatto fotografico che riguardava l'arcobaleno lunare. L'arcobaleno lunare è diverso, chiaramente, lo potete già capire, c'è bisogno di essere degli scienziati per capire il perché l'arcobaleno illuminato dal riflesso della luna è bianco e non ha i colori perché chiaramente c'è meno luce rispetto al sole. Però è bellissimo vedere un arcobaleno praticamente di notte anche se è bianco quindi in questo caso addirittura si vedono bene anche i colori. Non so se... Sì, ci sono le stelle. Non so se è proprio al tramonto o giù di lì. Però no, potrebbe essere che magari è stato preso in un momento in cui c'era più luce e quindi così come ha fatto Michele Trungadi di 44 anni sviluppatore di software che è riuscito a catturare sabato scorso con il suo cellulare questo momento questo arcobaleno lunare è uno spettacolo davvero molto bello è rarissimo non è che si può vedere quindi chi l'ha visto dal vivo si può dire fortunato si vede una volta probabilmente nella vita e quindi è andata è andata bene noi invece vi abbiamo fatto vedere la foto scattata da un altro ascoltatore da un nostro telespettatore e che lo stesso era molto bello addirittura completo con proprio l'arco nel suo splendore anche se bianco una cosa meravigliosa poi ci devono essere anche condizioni non solo climatiche ma anche ambientali perché poi la luce delle città rovina invece era in una situazione tra piobbico ed acqua lagna quindi la situazione è straordinaria allora andiamo velocemente a vedere le pagine sportive si parla di mercato sul Corriere questa mattina e sul Carlino il mercato Viss resta ad Orni e sfuma a Semeraro il DS Crespini voleva il terzino dell'Ascoli che però va alla Cavese il Ravenna si rafforza con il centrocampista De Grazia mentre sul fronte VL lesione muscolare per Delfino il capitano non è grave ma in forte dubbio per la trasferta di Venezia la sua esperienza è mancata nel finale di partita mentre sulla pagina dedicata sempre alla Serie C il Fano firma Nepi e Isacco Diop in prestito a fermo scambio con i Canarini i Canarini dovrebbero essere quelli di fermo sì i Granata arrivano mediano e puntano e punta ventenni fa il percorso inverso invece il difensore che non rientra nei piani di Alessandrini non so perché poi qui adesso è comparsa la pagina della Valle del Metauro che non c'entra niente con lo sport però ve la leggo ve la faccio vedere evidentemente sono tante le pagine stamattina al via indagini nel sottosuolo per trovare i resti romani in corso le prospezioni geofisiche per al fine di organizzare i nuovi scavi siamo a Fossombrone nell'antica città di Forum Semproni dove le sorprese non finiscono mai di stupire finisce qua ah ok era lì va bene lo spocco lo sport e con questo fuori programma della Val Metauro finisce qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona e serena giornata anche proficua perché no stasera invece ci vediamo alle 20.30 con il nostro telegiornale occhio alla notizia al quale come sempre anche voi potete dare una mano e contribuire con le vostre preziosissime segnalazioni come usando memorizzando il nostro numero di telefono 338 4968 250 memorizzarlo sul vostro cellulare poi usare Whatsapp o Telegram per inviarci foto, video o semplicemente messaggi di testo buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.